... Dolcemente accarezzato per il 40 ottobre, presenta le ronde sui presiari da casa. Fondente nero e nori, il primo in Italia. Nero nero, cibo e specialità nel cuore del fondente. Svizzero? No, nomi. Il grande cioccolato italiano. Sì, così! Allora ti ha i risultati. Da mezz'ora si torna la 1 promotion, ancora più ricca di premi. 1 su 4 vince subito. Nuova G-Sanpizzo GPL, da 5.790 euro. Vieni a scoprire il PIXO, Mitra e Nota GPL anche sabato e domenica. Dopo mangiare, non serve possibile la passione. Per questo, c'è tegan, si consiglia un calcio e il loro. Quando vincere lo spazzolino, c'è tegan. Ma un posto post-iturale, c'è, non è in Italia. Mezza, allora vi devo dire che l'interruzione da 59 minuti. Grazie. Grazie. Grazie.